Fiera del Levante lunedì 12 settembre, le nuove politiche del governo farmaceutico tra appropriatezza, aderenza e sprechi. Questo è il tema del convegno organizzato dall'ASFoggia e promosso dal Dipartimento regionale per la promozione della salute. Significativa la massiccia adesione al convegno a rimarcare l'importanza degli argomenti al centro del dibattito. Gestione del marketing delle case farmaceutiche, governo dei prezzi dei farmaci, comportamenti prescrittivi professionali conseguendo il comportamento dei pazienti con riferimento particolare ad un corretto orientamento nell'uso dei farmaci. La medicina di precisione quindi verso un percorso di alta specializzazione con i farmaci innovativi in prima linea per combattere vecchie malattie non solo. Nel convegno si è discusso della spesa farmaceutica che va associata a prodotti farmaceutici d'eccellenza e la richiesta di impegno al legislatore al fine di assicurare alla collettività sicurezza farmacologica. Hanno partecipato al convegno alcuni direttori generali delle aziende sanitarie, il direttore del Dipartimento di promozione della salute Giovanni Gorgoni e il senatore Luigi D'Ambroso Lettieri, membro della commissione di igiene e sanità del Senato e presidente dell'ordine dei farmacisti di Bari. Oggi si è parlato di farmaco, a breve di centralizzazione degli acquisti e in Regione Puglia siamo riusciti a farlo con gli operatori che già esistono nel sistema in pochissimi mesi e domani si parlerà di sanità digitale con un confronto con altre regioni e non è un confronto da inseguitori ma è un confronto alla pari. La Regione Puglia ha delle buone pratiche in sanità digitale che probabilmente non riusciamo, e questo è il vero mea colpa, non riusciamo a vendere o a rendere visibili come dovremmo. Grazie tanto e buon lavoro. Anche a voi grazie. La farmacia Carbutto si è trasferita in via Michelangelo Buonaruti 19 e vi aspettiamo. Offriamo tanti servizi, il test delle intolleranze alimentari con il metodo EAV, il test delle intolleranze alimentari con il metodo Recaller, l'elettrocardiogramma con referto immediato con CardioOnline, effettuiamo le consulenze omeopatiche con la dottoressa Francesca specializzata in omeopatia, le consulenze naturopatiche con la dottoressa Maria Chiara specializzata in naturopatia, specializzata anche in biologia della nutrizione, quindi consigli dietetici personalizzati, consulenze cosmetologiche con tutta la nostra linea che è senza nickel e con il trattamento per i soggetti allergici. Facciamo il test della glicemia con l'autoanalisi e poi anche con un solo prelievo, test della glicemia, colesterolo totale, HDL, LDL, trigliceridi e anche il rischio cardiovascolare a 10 anni con dei parametri che vi chiederemo durante l'esame. Il nostro elettrocardiogramma è valido come certificato medico per le attività sportive. Tra i nostri servizi abbiamo anche l'oltrepressorio e poi un occhio di riguardo per gli amici a quattro zompe. Vi aspettiamo nella nostra nuova sede con la gentilezza e la competenza di sempre. Un'altra cosa, abbiamo investito nel capitale umano, cioè abbiamo preferito assumere dei giovani farmacisti invece di mettere il robot. Praticamente siamo a vostra disposizione con tutte queste specializzazioni, con la gentilezza e con il servizio anche a domicilio dove fosse necessario. Grazie. Grazie. Grazie.